Moda e cucina tornano a unirsi con creatività alla reggia designer outlet di Caserta, con la seconda edizione di Wine and City, la due giorni in cui i clienti del centro commerciale del gruppo MacArthur Glen sono accolti e coccolati tra le boutique da chef e sommelier. Prima una bollicina, poi un piatto. Tema della seconda edizione dell'appuntamento è l'autunno, un fall in wine che unisce le novità sartoriali della nuova stagione con i prodotti e gli abbinamenti tipici del post-estate. Ci ha detto di più Francesco Mancuso, marketing manager della reggia designer outlet. Siamo felici di ospitare qui per la seconda volta Wine and City, siamo un po' l'estensione fashion di questa bella manifestazione che si tiene a Napoli. Una due giorni di degustazione di 40 cantine italiane ospitate in altre tante boutique qui all'interno del nostro centro. Una bella sorpresa per i nostri clienti poter fare shopping e nel contempo degustare delle eccellenze vinicole all'interno dei nostri store. Quindi l'obiettivo di questa manifestazione è far vivere un'esperienza di shopping arricchita. Novità di questa seconda edizione della Kermesse è il cooking show di Marianna Vitale, chef stellata al lavoro nelle cucine di Sud Ristorante a Quarto. Ecco la sua proposta per i clienti della reggia designer outlet. Facciamo assaggiare un piatto storico del ristorante che è spaghettoni con burro, acciughe e fichi che poi si completa con una cipolla rossa messa a crudo.